Ogni scratto, una baligata! Ogni scratto, una baligata! Ci siamo trovati oggi pomeriggio alle 2 come Movimenti per il diritto all'abitare per fare un regalo alla neo eletta sindaca Virginia Raggi che oggi compie gli anni. Un regalo di consapevolezza riteniamo, un presente per fare presente la situazione del patrimonio pubblico in questa città. Abbiamo segnalato simbolicamente una caserma nel pieno centro che è stata abbandonata da anni che i movimenti avevano già occupato in due occasioni ma che nonostante le diverse segnalazioni continua a rimanere dismessa. Abbiamo scelto questo giorno per portare il nostro saluto al nuovo sindaco. È il giorno del suo compleanno, è riuscita a non parlare mai di emergenza abitativa. Oggi vogliamo ricordargli che questa città è piena di sfratti e di palazzi occupati e vogliamo che domani in giunta l'emergenza abitativa arrivi in maniera forte e chiara. E non ci alla fine, ma non si pagare. E non si pagare mommy, non ci pagare. E non ci pagare mai. Ség tamo preteLY E non ci pagare mai, la gente come fai mai. La gente come noi, la gente come noi.